amici tg villa di vertuolo solo notizie belle oggi dalla panchina gigante di costigliole saluto abbiamo un gradito ospite il nostro OTG che ci deve fare un invito e quindi lasciamo a lei la linea bella gente della villa di vertuolo e dintorni vi aspetto numerosissimi martedì 31 maggio a Ballando le Cupole così chiudiamo la stagione alla grande anche in vostra compagnia mi raccomando martedì 31 maggio tutti a Ballando le Cupole vi aspetto vi porto a Mauro state tranquilli siete in ottime mani ciao grazie Sonia quindi amici tg villa di vertuolo amici della Proloco vi aspettiamo tutti il 31 maggio a Ballando le Cupole contattateci per partecipare più siamo numerosi e più ci divertiamo e in anteprima andremo anche a svelare tutto il calendario delle nostre manifestazioni estime vi aspettiamo numerosi ora andiamo ancora ad ascoltare una bella canzone della nostra amica Sonia buona domenica e buona giornata a tutti credo nella gente che ride che lavora e che spera che se cade si rialza e cammina credo in un vecchio che insegna ad un bimbo la strada va per correre senza sbagliare credo se la storia si ripete che domani avremo sete se anche l'acqua finirà credo che la paura si allontani con la forza delle mani che si stringono e ti abbracciano se l'amore non ha forma o confini